A Campobasso un ulteriore messaggio chiaro e forte alle rivali in chiave playoff. In casa i molisani non perdevano dal 18 novembre 0-1 con Giulianova. Non solo, nelle successive 16 sfide un solo KO a Savignano lo scorso 13 febbraio. Insomma una vera e propria impresa. Del resto il notaresco è sempre lì dall'inizio della stagione. Terzo in classifica, solo 4 punti in meno rispetto alle prime 10 giornate del girone di andata. Splendida realtà, la forza delle idee e soprattutto un'idea di calcio ben precisa. Il risultato attraverso il gioco, il tecnico Mirko Cudini. Sicuramente sì, noi siamo partiti per quanto mi riguarda e ci riguarda con questa idea. È un nostro modo di essere. I ragazzi l'hanno acquisito strada facendo e quindi credo che i risultati si vedano. Siamo contenti di questo e di certo non cambieremo strada facendo il nostro modo di essere. Siamo partiti così, siamo costruiti per fare questo e ci stiamo togliendo diverse soddisfazioni e sicuramente mi auguro da qui alla fine del campionato di togliercene altre perché i ragazzi lo meritano. Rispetto alle prime 10 giornate del girone di andata il notaresco ha solo 4 punti in meno. 21 nel girone di andata, 17 dopo le prime 10 giornate nel girone di ritorno. Quindi diciamo che c'è grande continuità, no? Sì, non era facile perché siamo partiti bene all'andata quindi abbiamo fatto qualcosa di importante le prime 5 partite e non era facile ripercorrerlo. Abbiamo sì, steccato qualche partita nel girone di ritorno, vedi Tisernia dove forse è una delle partite dove abbiamo meritato anche, non dico di perdere ma sicuramente non di vincere, quella in casa con l'Avezzano che per il risultato andiamo a vedere sembra una partita declatante però fatta di molti episodi quindi per il resto abbiamo fatto un percorso diciamo anche abbastanza continuo e quindi però i campionati finiscono all'ultimo di campionato, siamo solo a 9 partite alla fine e quindi c'è ancora molto da fare e soprattutto da dimostrare. Se vogliamo il notaresco del girone di ritorno, non so se siete d'accordo, si è scoperto più spietato in zona gol, come la possiamo mettere? Concretizziamo in questo momento, abbiamo concretizzato meno rispetto all'andata, questo sì, i numeri parlano chiaro. però nonostante questo riusciamo a portare a casa magari quelle partite che a volte magari all'inizio o il girone d'andata non siamo stati bravi a farlo e di questo è un processo di miglioramento che la squadra ha avuto che poi i campionati passano attraverso diverse fasi, questa squadra questo aspetto l'ha migliorato. Che bel gol Candellori a Campobasso, su traversone perfetto di Moretti, è rimasto in sospensione, è salito in cielo un po' come Cudini quando giocavano. Ma non ero un bombero questo sicuramente, ho avuto la fortuna di fare sì qualche gol ma non era la mia specialità. Diciamo che Kevin per le proprie qualità, che poi non è fisicamente, non parliamo di un gigante, quindi diciamo che ha fatto un bel gol, soprattutto una buona palla messa dall'esterno, c'è stato tempo e spazio per poter concretizzare e ha ripagato quello che è stata la nostra prestazione importante. In vetrina gioielli importanti, è andato via Liguori a gennaio, sponda a Catania, anzi gli auguriamo le migliori fortune perché è davvero un bel talentino, ma anche Blando 2001, lo stesso Fabriani quasi 2002, niente male come lavoro. Siamo partiti con questa idea, al di là che il campionato te lo impone perché gli under sono obbligatori, però siamo partiti con questa idea di avere dei giovani discreti, importanti, siamo stati fortunati e non so se bravi ad averli o a prenderli e le soddisfazioni ce le stanno dando in campo. Siamo contentissimi che Michael abbia preso questa strada, mi auguro che possa emergere perché ha qualità importanti, però come hai detto te, ci sono altri tanti giovani che stanno facendo bene, ma anche chi in questo momento sta trovando meno spazio merita anche di fare, di giocare. In vetrina anche Mirko Cudini dopo questo campionato? Mi fa piacere, mi fa piacere perché soprattutto ho avuto la disponibilità fino adesso, ma credo che non ho problemi fino alla fine del campionato dei ragazzi e questo credo per un allenatore sia la cosa più importante. Poi quello che saranno le situazioni future, come ho detto prima, i campionati finiscono all'ultimo di campionato, quindi quello che uno di buono ha fatto fino adesso si può perdere e starà facendo. Bisogna continuare, bisogna sempre dimostrare, sentirsi appagati in questo momento credo che sia un grosso difetto, credo un grosso handicap per un allenatore. Ora il derby con il Francavilla, in questa fase del campionato i punti diventano sempre più pesanti. Sì, siamo nella parte quasi conclusiva, nell'ultima parte conclusiva del campionato dove ci sono scontri importanti, quello di domenica è sicuramente uno per quanto ci riguarda. Sì, diciamo che abbiamo iniziato il campionato stando davanti e ancora in questo momento siamo riusciti a rimanerci, quindi di questo siamo consapevoli. Ci fa piacere, arrivati a questo punto del campionato, giocarci una partita importante col Francavilla in questa posizione classifica. Incrocerai di nuovo, era già successo in generale di andata, un tuo ex compagno di squadra ai tempi di Salerno, avete giocato insieme tre anni, dal 95 al 98, vincendo un campionato alla grande, direi alla grandissima, con Delio Rossi in panchina. Sì, delle sensazioni particolari, delle esperienze positive con Paolo, quindi lo ritrovo volentieri perché oltre ad essere un buon allenatore è una persona eccezionale e non c'è stato grosse problematiche a trovarci a livello di feeling, quindi mi fa sempre piacere rincontrarlo, sentirlo, ci sentiamo spesso, quindi gli faccio un grosso in bocca al lupo e vinca il migliore. Ma vi sentite anche alla vigilia, no? Beh, questa settimana non ci siamo sentiti, ci siamo sentiti all'andata, sì, ma più a modo scherzoso per affrontare questa gara. Stefano, questo è il momento topico della stagione, qualcuno poteva pensare alla meteora notaresco, invece così non è perché siete lì stabilmente nei quartieri alti, nei piani alti della classifica praticamente dall'inizio. Sì, siamo lì dalla prima giornata, speriamo di rimanerci a questo punto. Questa squadra già dal ritiro giorno per giorno si vedeva che cresceva, che aveva potenzialità, poi, ripeto, è stato bravissimo il mister con il suo staff a metterli in condizione di rendere al meglio e poi ha dimostrato in questa rosa anche qualità importanti, sia dei giovani che non meno giovani. Sì, Cudini è stato bravissimo, giovani di qualità, ma il merito è stato di De Angelis a scovare questi potenziali talenti. No, no, questo va diviso, io dico sempre i meriti vanno divisi tra tutti, società, mister, staff, settore giovanile, perciò poi amalgamarli. Siamo stati anche magari fortunati a trovare ragazzi che si sono messi a disposizione, che non sempre è così. Poi, ripeto, uno fa delle scommesse come quando giochi a carta, alcune volte si fa delle scommesse, alcune volte li vince, alcune volte no. Quest'anno magari ne stiamo vincendo più di uno. Diciamo che avete giocato da azzardo più del solito quest'anno. No, abbiamo azzardato sì, come età, però erano anche rischi calcolati, perché le potenzialità magari si conoscevano, però non sempre vengono fuori. Spieghiamo il segreto a chi ci segue in visione d'ascolto, perché il direttore sportivo di solito dovrebbe andare a scovare il talento, cioè vederlo dal vivo. È un po' quello che ha fatto Stefano De Angelis per Blando e Fabriani. Fabriani lo conosco da quando io l'ho preso a Vizzano, aveva 15 anni, perciò ci ho sempre creduto. Sono contento che magari adesso sta maturando. D'altronde i giovani hanno bisogno di tempo, perciò altrimenti non stavano. Lui l'ho preso a 15 anni, è già due o tre anni che sta con me, e quest'anno sta dimostrando che può avere potenzialità per fare qualcosa. Blando lo stesso, ma questo è così, perché io previsco sempre magari per i giocatori che ho, vederli, vederli, poi almeno uno, come si dice, se si sbaglia, si sbaglia con la sua testa. No, perché molte volte capita invece che i direttori sportivi li guardino al videotape, è forse sbagliato. Ma io non mi fido tanto di quello. No, ci può stare anche perché magari lo guardano più volte. Io, ripeto, magari non sono ancora così bravo da intuire sul videotape, perciò previsco magari a vederlo dal vivo. La nostra dimensione era questa, non potevamo guardare altro. Cioè il videotape magari già andava un budget superiore, perciò non andava. Tre scontri diretti, ci sarà però anche la sosta. Si comincia domenica con la Francavilla in casa, poi dopo la sosta il Pineto e la San Giustese. Insomma, si decide il campionato? Sono scontri diretti perché sono importanti, magari perché sono punti pesanti. Però, ripeto, noi abbiamo perso Isernia. Perciò è difficilissimo andare anche in altri campi dove magari giocano per altri obiettivi. Francavilla in forte ascesa, ha perso una sola partita nelle ultime sette, cinque vittorie. Tra l'altro l'unico K.O. immeritato in casa col Cesena. Che partita sarà? Notaresco senza bontà e Moretti, due pedine fondamentali nello schiacchiere di Cudini. Sarà una partita difficilissima. Difficile perché sappiamo il valore dell'avversario. Una squadra che a dicembre, nonostante che era magari staccaio a qualche punto, ha investito ancora perché ha preso Dos Santos. Perciò, alla fine, una squadra che prende Dos Santos, chi lo conosco bene, vuol dire che ha ambizioni. Perciò sta raccogliendo i frutti del lavoro a giocatori di Palumbo, Cafiero, ma ne cito qualcuno perché ne ha Banegas, ne ha tanti. Però, ripeto, noi, come abbiamo sempre fatto, cerchiamo di fare la nostra partita perché noi abbiamo il nostro credo, non è che abbiamo altri segreti. Noi cerchiamo di fare il meglio delle nostre possibilità, poi vedremo a fine partita il risultato quale sarà. avendo un grande rispetto del Francavilla perché sappiamo di incontrare una squadra che ti può punire in qualsiasi momento. Sempre il risultato attraverso il gioco, questo rimane lo spirito del notaresco di quest'anno. Ma sì, noi abbiamo questa caratteristica. Cudini fuori categoria. No, beh, questo... Ma io lo spero per lui come per i ragazzi che vuol dire che faremo talmente bene che poi magari un altro anno si possa parlare di qualcos'altro. Perciò, come è stato per Liguori andando a Catania, cioè, sono il primo a essere contento perché vuol dire che il lavoro fatto dalla società è stato ottimo. Perciò, se Cudini poi fa la carriera, saremo ben contenti che è passato da notaresco. Ma secondo te andrà via a fine stagione? Questo bisogna chiederlo al presidente Di Giovanni. Di Giovanni lo vuole tenere. No, vediamo. Penso che adesso sia presto, però vediamo un attimino. De Angelis blindato a notaresco. No, io... No, qua non siamo blindati nessuno per adesso perché ancora di futuro, sinceramente, non abbiamo mai parlato. Perciò vediamo. Noi ci teniamo a fare il meglio possibile fino alla fine e poi, quando sarà il momento, vedremo il da farsi. Il Francavilla è una squadra che ha qualità lì davanti, ha un cecchino di spessore in questa categoria come Dos Santos, ma ce l'avete anche voi, risponde al nome di Minella, tra l'altro 15 gol a entrambi, ed è anche una formazione molto fisica, soprattutto lì dietro. Sì, questo è magari... Partiamo un po' svantaggiati da questo punto perché loro... È una squadra molto fisica, secondo me, insieme al Materica, è la squadra più fisica del campionato, perciò lì potremmo magari concedere qualcosa, però soprattutto con l'assenza di Bondai e Moretti. Però, ripeto, per ovviare a questo, sicuramente noi dovremo, come si dice, fare maggiore attenzione e raddoppiare gli sforzi e di nostro metterci il grande entusiasmo che abbiamo della squadra giovane che vuole fare la partita come sempre, vuole divertirsi e vuole cercare di fare il risultato pieno. E soprattutto vuole continuare a stupire. Ma sicuramente, speriamo di rimanere lì davanti perché poi davanti si sta bene. Ormai ci siamo, speriamo di rimanerci, poi vediamo, sarà durissima, però speriamo.